Da un lato una tastiera da gaming da 30 euro, dall'altro una tastiera da gaming da 200 euro. Non andiamo nello specifico dei due modelli, da un lato c'è Truss, dall'altro c'è Loditec, ma cerchiamo di capire quali sono le differenze con una forbice di prezzo così grande e soprattutto qual è il meglio comprare per uno che inizia ad entrare in questo mondo. Benvenuti nel canale di VG Informatica, io sono Toto e prima di continuare, beh, sigla e iscrivetevi al canale per supportarci in modo che possiamo portarvi contenuti sempre di maggiore qualità. Quando si parla di tastiere c'è sempre una grandissima diatriba. Da un lato ci sono quelli che sostengono che è inutile spendere tanto per una tastiera, tanto è uno dei metodi di input un po' meno usati e meno importanti, meglio spendere nel mouse. Dall'altro ci sono quelli che ritengono che sia necessario spendere cifre allucinanti per prendere la prima tastiera. Dall'altro ci sono quelli che non sanno minimamente da dove iniziare, che non riescono a giustificare le grandi differenze di prezzo che ci possono essere tra una tastiera di fascia bassa come questa Trust Callaz e una tastiera di fascia alta come questa Logitech G815, di cui esiste anche una versione completamente wireless. Per cui in questo video cerchiamo di capire tutte le differenze. E iniziamo dalla percezione al tatto. Prendiamola in mano. Questa qui è estremamente leggera. Sentite, qui è plastica, qui è plastica, qui è plastica. È realizzata completamente in plastica e questo redona ovviamente tantissima leggerezza, anche se devo dire la sensazione al tatto non è affatto male. Peraltro Trust non ha lesinato in quanto a dettagli, in quanto nella parte posteriore abbiamo comunque due piedini apribili in due posizioni diverse, quindi completamente piatti o completamente alzati, e i piedini in teflon che, devo dire, funzionano discretamente. Come potete vedere, su questa superficie qui la tastiera un po' si muove, ma ciò è dovuto anche alla sua leggerezza. La solidità costruttiva diciamo che è nella media. Se andiamo a flettere leggermente la tastiera, sento che gli assemblaggi tendono un po' ad aprirsi, anche se comunque la sensazione di solidità è buona. Se prendiamo in mano la tastiera da 200 euro, sentiamo sin da subito un peso completamente diverso, nonostante sia notevolmente più sottile. Guardate questa immagine. Da cosa è dovuto questo peso così grande? Da una costruzione un po' migliore. Questo comporta un assemblaggio più consistente, una placca in metallo nella parte superiore, ma soprattutto una placca in metallo all'interno. Se noi andassimo a smontare questa tastiera, noteremo proprio un pezzo intero di metallo lungo tutta la superficie della tastiera. E questo a cosa serve? Perché dovremmo scegliere una tastiera più pesante? Semplicemente perché una volta poi appoggiata sarà molto più difficile andarla a muovere, soprattutto se la appoggiamo su un mousepad. Dopodiché ci sono altre caratteristiche che possiamo notare. Prima di tutto il profilo slim. E questa è una caratteristica che ovviamente andiamo a pagare rispetto a un profilo standard, in quanto comporta maggiore ricercatezza e raffinatezza. L'assemblaggio è più curato. Guardate poi quanti pad in silicone abbiamo nella parte inferiore. Uno, due, tre. E dopodiché i piedini che permettono due regolazioni. Questa qui è la massima, ma possiamo anche inclinare la tastiera un po' di meno in modo da trovare il nostro fit e la nostra ergonomia perfetta. Quindi abbiamo in questo caso tre posizioni, in questo caso due, e poi altre piccole chicche. Per esempio qui abbiamo una porta USB aggiuntiva. Se andiamo a collegare la tastiera al nostro computer perdiamo di fatto una connessione USB, con la tastiera a 200 euro, nella maggior parte dei casi la recuperiamo, perché possiamo qui collegare un'altra periferica, per esempio il mouse o qualche chiavetta USB. E questo, lato costruttivo, è una differenza che si percepisce tantissimo. Voi direte, sì, ma tanto poi il cavo è telato. Certo, il cavo è telato, ma mentre nella tastiera a 30 euro abbiamo comunque una qualità inferiore con un cavo un po' più leggero e dalla fattura inferiore, qui abbiamo un cavo notevolmente più rigido che ci permette una maggiore sicurezza e affidabilità nel lungo periodo, ma soprattutto una migliore disposizione nella nostra scrivania, in modo da poterlo direzionare e gestire meglio. Ovviamente la tastiera a 200 euro ha due terminazioni USB, una per alimentare la tastiera, l'altra per collegare la porta USB aggiuntiva. La tastiera da 30 euro ne ha solamente una e potete valutare voi stessi l'attacco è decisamente diverso. Più pregiato e meglio fatto è una tastiera a 200 euro, un po' più basic, possiamo dire così, nella tastiera da 30 euro. Questo qui è il classico cavo che potremmo trovare nelle tastiere che c'erano tanti tanti anni fa, le prime che arrivavano sul mercato. Vediamo poi la disposizione dei tasti e le varie funzioni speciali. Lasciamo stare il fatto che la tastiera da 30 euro sia una 10-less, quindi manca il tastiero numerico e questo sia una full. Esistono comunque tastiere da 30 euro che hanno il tastiero numerico, lì dipende più che altro dalle vostre preferenze, non ci sono grosse differenze, così come esistono tastiere da 200 euro che comunque non hanno il tastiero numerico e che sono un po' più compatte. In entrambe abbiamo il layout in italiano, notate il tasto invio AL su entrambe le tastiere. Qui abbiamo dei tasti standard. Proviamo un attimo a digitare. Come potete sentire, il profilo del tasto in questo caso è lineare, non fa rumore, non è clicky, ma è uno di quei tasti che permette davvero di giocare. mentre se andiamo ad analizzare i tasti sulla Logitech si sente che lo switch è diverso, non solo perché clicky, ma anche perché è più pesato. Nonostante la corsa ridotta, sentiamo che dobbiamo impartire una maggior forza per dare l'input. E questo potrebbe essere cruciale quando andiamo a giocare, ma anche quando usiamo la tastiera per lavorare o per scrivere, in quanto in questo caso abbiamo di più la percezione di cliccare il tasto. Mentre in questo caso qui ci avviciniamo un po' alla sensazione di una membrana molto premium piuttosto che di una vera meccanica. Ma questo ovviamente può cambiare a seconda dello switch che si utilizza. Per quanto riguarda il tasto, invece, la sensazione al tocco proprio nei materiali è la stessa, in quanto sono in entrambi i casi tasti in ABS. Qui potremmo addirittura fare un video dedicato esistono tasti e tasti. C'è chi preferisce i tasti in PBT che è un materiale sempre polimerico, quindi sempre a base plastica, ma molto più durevole e resistente che dà al tatto una percezione maggiore di qualità. C'è chi invece dice a me del tasto non mi importa granché, quindi il tasto in ABS va benissimo. È vero che se spendiamo 200 euro e ci ritroviamo poi dei tasti in ABS che sono la soluzione più economica, allora questo potrebbe un po' farci storcere il naso. Per quanto riguarda gli switch meccanici e fatemi sapere se volete un video specifico su come capire che switch fa meglio al nostro caso, qui abbiamo dei red lineari di marca Utemu. Utemu non è che sia un brand da escludere o da non tenere in considerazione, fa degli switch economici. Questo cosa significa che anziché durare 80 milioni di click magari ne durano 30 milioni e quindi avranno una durata nel lungo periodo un po' inferiore. Badate bene che 30 milioni di click significa un utilizzo intenso di oltre 5 anni, quindi insomma non stiamo qui a fasciarci la testa. Semmai appunto la grossa differenza è nella precisione del click nel breve periodo, nel senso che i materiali impiegati per questi switch potrebbero cedere, potrebbero finire la loro vita più presto rispetto alle molle e ai materiali degli switch di questa tastiera Logitech che vi faccio vedere sono degli switch proprietari in questo caso slim. Come potete sentire questa tastiera è una tastiera che ho utilizzato per circa 3 anni e che è ancora come nuova a parte l'usura appunto dei tasti in ABS che è normale perché la nostra pelle cerne sebo che va poi a corrodere in parte i tasti. Però gli switch non hanno assolutamente alcun problema e anche nella digitazione e nell'uso non ho trovato criticità. Altra differenza importante è nella possibilità di personalizzazione di queste tastiere. Come potete vedere infatti la tastiera da 30 euro non ha tasti speciali, ha sì dei tasti in seconda funzione che potremmo utilizzare per andare a gestire il volume, alcune macro, alcune funzioni speciali tuttavia non abbiamo dei tasti dedicati completamente personalizzabili mentre sulla Logitech ne abbiamo tantissimi. Abbiamo 5 tasti extra qui nella parte destra che possiamo personalizzare come vogliamo e altri tasti per andare a cambiare tra i 4 profili che possiamo andare a personalizzare per attivare o disattivare la retroilluminazione per attivare o disattivare la modalità gaming che inibisce alcuni tasti come per esempio il tasto Windows in modo da non farci uscire dal gioco nel momento più bello. In più abbiamo altri tasti che potrebbero tornarsi utile tasti multimediali dedicati e la ghiera del volume che io personalmente apprezzo tantissimo e di cui non riesco più a fare a meno. L'illuminazione RGB c'è ormai su tutte le tastiere anche quelle più economiche cambia la qualità stessa della retroilluminazione. Qui è un po' più tenue con tratti a volte più saturi qui abbiamo dei colori un po' più precisi un po' più affidabili nella cromia e riconoscibili ai nostri occhi. Si tratta di inezze sicuramente lato funzionalità non ci va a cambiare la vita così tanto. Ciò che cambia tanto è invece poi l'esperienza finale di utilizzo. Qui infatti abbiamo un'esperienza di tipo plug and play. Non abbiamo bisogno di configurazione personalizzazione settaggi particolari abbiamo solamente tasti in seconda funzione per gestire la riproduzione gestire il volume e poco altro lanciare alcuni programmi dedicati e basta. Non abbiamo neanche una modalità gaming specifica e non abbiamo un software con cui andare a personalizzare in maniera fine né la retroilluminazione né l'esperienza per quanto riguarda le macro. Quindi diciamo che è una tastiera con cui si può giocare ma non prettamente da gaming. Per quanto riguarda invece la tastiera da 200 euro e in generale la maggior parte delle tastiere che vanno dalla fascia di prezzo dai 70 euro a salire qui abbiamo un software dedicato. Software che ci permette di andare a personalizzare le macro per ogni specifico tasto andare a personalizzare le funzioni della tastiera alcuni comportamenti e feedback della tastiera ma soprattutto i tasti macro e anche la retroilluminazione che addirittura possiamo sincronizzare con altre periferiche dello stesso brand nel caso le avessi ma in questo caso quindi abbiamo un'esperienza più completa ma anche più complessa sotto certi punti di vista in quanto se sei un utente alle prime armi sicuramente non sai neanche come andare a smanacciare bene su tutte queste impostazioni quale scegliere dunque beh la differenza di qualità c'è e si percepisce inutile discuterne tuttavia se siamo alle prime armi e non sappiamo ancora bene tutte le differenze tra le tastiere quali sono le nostre preferenze una tastiera da 30 euro può sicuramente soddisfare la nostra voglia di avere una tastiera un po' più di qualità giusto per entrare in questo mondo se invece vogliamo avere ancora maggiore precisione maggiore possibilità di personalizzazione la tastiera da 200 euro sicuramente ci permette di fare un passo in avanti notevole non entro nel merito delle tastiere personalizzate e custom in quanto si tratta di un argomento secondo me da trattare a parte fatemi sapere nei commenti se volete altri video come questi se avete domande fatele sempre qui sotto nei commenti iscrivetevi al canale e noi come al solito ci vediamo al prossimo video ciao ciao